eccoci e bentornati sul mio canale oggi un video che mi avete chiesto veramente in tantissimi e che mi state consigliando in tantissimi cioè come ottenere un codice per giocare la beta call of duty infinite warfare in maniera gratuita quindi senza comprare il gioco vi spiegherò tutto quanto in questo video vi metto in descrizione la guida di un canale che sono riuscito a trovare che veramente è molto chiara e molto facile da comprendere mentre vi spiegherò a grandi linee che cosa bisogna fare come sappiamo per giocare alla beta di call of duty infinite warfare dovremo fare il preordine del gioco quindi tanti di voi mi chiedono io il gioco non lo voglio preordinare il gioco non mi interessa vorrei provare soltanto la beta per capire se mi può interessare oppure no e via dicendo bene con questo metodo è possibile provare la beta di call of duty infinite warfare senza spendere neanche un centesimo di preordine baserà andare sul sito amazon.com quindi la sezione internazionale del famoso sito online di acquisti e a quanto pare su amazon.com quando si fanno i preordini l'importo sarà scalato soltanto o il giorno prima o il giorno della spedizione se non ricordo male e quindi per questo si riesce a fare questa cosa senza spendere neanche un centesimo basterà andare a fare il preordine della versione anche standard di call of duty infinite warfare però la versione fisica non quella digitale quando dovrete andare a selezionare gli indirizzi quindi come riempimento dei campi per la spedizione andate a cercare su google degli indirizzi americani con i codici postali degli stati uniti perché dovrete tipo dimostrare tra virgolette di abitare all'interno dell'america questo per evitare che nell'importo del preordine vengano aggiunte spese di spedizione ma soprattutto spese di sdoganamento dall'america all'italia quindi mettete come se foste abitanti in america riempite tutti i campi con l'indirizzo spedizione codice postale via dicendo confermate la carta e completerete il famoso preordine come praticamente accade su amazon.it nulla di differente una volta completato questo riceverete sulla vostra email il codice promozionale per giocare la beta di call of duty infinite warfare che dovrete andare a riscattare su www.callofduty.com slash beta come vi avevo fatto per richiedere il codice andrete a selezionare come paese gli stati uniti la piattaforma playstation 4 o xbox one e ovviamente inserirete il codice da 13 cifre tutto questo verrà abbinato al vostro account xbox o ps4 perché sul sito di call of duty avrete fatto il login e non appena riceverete l'ok della conferma della registrazione al multiplayer beta di call of duty infinite warfare ritornate su amazon.com e annullate il preordine andando ad indicare che vi siete sbagliati in questo modo non verrà scalato nulla dalla vostra carta e avrete un codice per giocare alla beta di call of duty infinite warfare per qualsiasi dubbio domanda perplessità e quant'altro come sempre scrivete qui sotto nei commenti spero che questo video sia stato di vostro gradimento e vi ricordo che vi lascio il video guida in descrizione del canale e noi ci vediamo con tanti nuovi video video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale